ciao bambini io sono orso sì da da vi presento questi i squishy ball lol surprise ma non li ho presi ovviamente per me li ho preparati per masha che sta arrivando orso bambini wow ciao ma questi sono le lol squishy ball o mi sbaglio non stai sbagliando masha questi sono i lol squishy ball sono per te wow i squishy ball per me non ci posso credere bambini è una meraviglia vado 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 ecco bambini l'abbiamo persa andiamo a recuperarla masha dove vai e voglio vedere tutti wow guarda orso allora quello che ho scoperto in tre secondi qua dentro che sono sei squishy ball tutti da stringere e da collezionare c'è la bimba così 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 ma io ve li faccio vedere tutti interi volevo iniziare da questo sacchetto per vedere chi c'è dentro primo tengo 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 la bimba con cerchietto per i capelli cuoricini note musicali bellissimo vestitino la prima bimba lol la mia prima bimba lol orso ma sei scappato orso sono qui masha sono qui ma non mi interessano queste cose da bambine uffa sei così antipatico oggi orso non è vero mi siedo qui dai guarda tu va bene orso una c'è guarda la bimba con cerchietti ho visto e adesso apre un'altra wow bambine guardate la bimba con capelli rossi tutta glitterato che bello orso tieni ok masha adesso riesci a contare quanto ne hai e si una due giusto vero bambini due sono e continuiamo a scoprire lì c'è nell'altro sacchetto vediamo bambine non ci crederete c'è un'altra lol la mia preferita questa con il fiocco rosso lei è una cantante lo sapete quanto ne siamo a tre una due tre mancano altre tre dai masha è vero altre tre questa no perché abbiamo già la bimba con il ciuffa rosso e qui no qui c'è quella bellissima ragazzina che suona la chitarra e canta rock la play doh non surprise tadaaa eccola la dobbiamo stringere vediamo cosa succede se li stringiamo diminuiscono perché spingi fuori tutta l'aria e poi si riprendono vero orso certo masha avevo detto sì 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 mancano altri due la play doh ce ne abbiamo la sirenetta ce ne abbiamo la sirenetta dov'è eccola la super sirenetta la super sirenetta cucciolosa che bella con le perle e la metto qui me ne manca una ma chi vediamo sul sacchettino abbiamo già la sirenetta la bimba con capelli glitterati non ce l'ho devo trovarla qui c'è la sirenetta c'è un'altra sirenetta uffa ma dov'è non c'è deve essere qui eccola l'ho trovata bambini guardate eccola la bimba tutta glitterata capelli vestiti scarpine anche le stelle è tutta super glitterata ti piace orso a vedere sì è meravigliosa masha che brava hai raccolto tutta la collezione di squishy ball giochi bellissimi per bambine vero sì adesso io gioco e tu orso vai a fare il pranzo perché io ho fame oh masha masha bimba berichina va bene io vado ciao bambini bambini vado anch'io a leggere di tutte queste belle timbe nel prossimo episodio vi racconto ciao bambini ciao bambini ciao bambini